Senatore Lumia, l'apertura dell'antica focacceria qui a Milano rappresenta non solo un ponte ideale tra la Sicilia e l'Ombardia, ma soprattutto la cultura dell'impresa etica, ripresa anche dall'iniziativa di Blog Sicilia. Sì, impresa etica che deve sfidare la società, che deve sfidare la Sicilia, deve sfidare l'Ombardia, il paese intero, l'Europa, o se dire il mondo, su un binomio, legalità e sviluppo. Dobbiamo dimostrare che la più moderna e avanzata lotta alla mafia sa coniugare queste due dimensioni. Per troppo tempo sono state separate, oggi dobbiamo metterle insieme. La focacceria San Francesco proverà nell'arte culinaria, nell'arte del cibo, nell'arte anche della grande tradizione di saper coniugare queste due dimensioni. Ma insieme anche alla modernità, con la prima web sitcom che verrà prodotta proprio in questi locali, in collaborazione tra la focacceria San Francesco e Blog Sicilia, è un'iniziativa legata all'informazione libera. È una bella idea, un'informazione fresca, vera, non impaludata, in grado di dire le cose come stanno, di raccontare le cose belle e le cose meno belle e di raccontare quella voglia di antimafia che fa i nomi e cognomi, che sfida le organizzazioni mafiose in qualunque posto si trovano e che racconta di quella stupenda Sicilia che vuole spezzare le catene nel sistema delle imprese e dopo 200 anni di sudditanza o di collusione dimostrare che nel mondo c'è un'impresa che sa coniugare, ripeto, legalità e sviluppo. Grazie